Il debutto assoluto del danese Sorensen, l'utilizzo dal primo minuto di Osama Chin, ma il sistema di gioco prevedibile non cambierà. Alla Rechi di Salerno sarà ancora difesa 3, ma con altri attori. Breda recupera tutti tranne lo squalificato Scognamiglio. Ci sono anche Asenzo e Drudi, reduci da lunghissimi stop e l'ultimo arrivato Jens Odgaard. Ecco la probabile formazione. Fiorillo tre pali, Sorensen, Bocchetti e Jaroszynski, uno dei tanti ex in difesa. Bellanova a destra sulla fascia postanzita e non Masciangelo. Ancora le prese con qualche fastidio alla caviglia, già è fortunata. A centrocampo Memusciai, Valdifiori e Macin, preferito a Maestro. Il guineano pronto ad alzarsi in fase offensiva sulla linea di Galano. Entrambi sulle altre quarti, come lo scorso anno, naturalmente Seter sarà il riferimento centrale. Breda sfida il suo passato, ricco di ricordi soprattutto di successi. Due promozioni, in B nel 94, in A nel 98, da capitano con Rossi in panchina. Da allenatore l'impresa promozione in B sfiorata di un niente nel 2011, nella duplice finale spareggio col Verona di Mandorlini. Anche un'esperienza politica da esterno come assessore allo sport della giunta comunale, allora guidata dall'attuale governatore della campagna De Luca. Insomma, sebbene senza pubblico per i noti motivi, le emozioni non mancheranno. Sul discorso dell'esultare, se mi guardate io non esulto quasi mai. Non è che cambia tanto. Sarebbe un'anomalia se esultassi. Ma non perché non sia contento che segniamo, anzi, perché è un pochino mio modo di essere. Però, insomma, il cuore è una cosa. I ricordi sono indelebili e non li toglierà nessuno. Però c'è il presente che vuol dire far punti. Poi dopo contro chi? Contro tutti quelli che abbiamo di fronte, a prescindere da chi sono. Per contro la serenità, una quarta in classifica, ma a reduce da una flessione evidente. Tre K.O. negli ultimi tre incontri con Monza, Pordenone e Empoli. Addirittura zero golfatti, ben dieci incassati. Fuori i partenti Mikai, Caro, Lex, Antonucci, l'infortunato di lungo corso Lombardi, gli squalificati Gijek e Anderson. Al rientro Capezzi e Di Tacchio, sistema di gioco speculare 3-5-2. Belez tre pali, Bogdan, Lex, Ghiomber e Mantovani nel cuore della difesa. Casasola e Cicerelli sulle fasce, Di Tacchio in cabina di regia. Lex, Cunibali e Capezzi in mezzali davanti, probabile panchina per Tutino, con Gondo, ex Teramo, al fianco del bosniaco Milan di Oricce. Così Castori, tornato a Salerno dopo la sfortunata esperienza di 12 anni fa. Campionato 2008-2009, Serie B. Esonerato, richiamato e poi di nuovo destituito dall'incarico. Il salito di massimo rispetto perché è una squadra forte secondo me, una squadra di giocatori molto esperti, una squadra che ha poi guidato da un allenatore che conosce benissimo la piazza di Salerno e quindi oltremodo ci riterà a far bella figura. Poi, ecco, però detto questo, il massimo rispetto agli avversari non lo diamo sempre. Resettiamo tutto il recente passato perché non si può andare in campo, come sempre dicevo quando si vinceva con la testa nell'ultima partita giocata, perché gli può dare euforia. Non possiamo andare in campo adesso con la testa nelle ultime partite giocate perché non possiamo essere demoralizzati o depressi. Davvero ricca la storia di precedenti a Salerno. Sette successi conseguiti dal Pescara, il primo in Serie C 1-0 nella 60-61, quindi 2-1 nel 1982-83 con Tom Rosati in panchina. In epoca più recente, nelle immagini, 13 gennaio 1996, 2-0 e primato in classifica in B al termine del girone di andata con Francesco Oddo in panchina, destro di Gelsi e strepitoso a solo di Federico Giappalo, un autentico capolavoro di Re Federico. Nel 1990-91, 3-0 al Rechi, allenatore Galeone, Martorella sblocca, Edmar raddoppia, tris di Caffarelli. 2003-2004, 2-1, doppietta di Fabio Alteri. L'anno successivo 2-0, Simonelli in panchina, reti di terra e job. L'ultima vittoria, dicembre 2018, allenatore Bepi Pilon, 2-4 a segno scognamiglio, soprattutto pomeriggio da ricordare, per Leo Mancuso, autore di una meravigliosa tripletta.